Continua la criticità in Campania a causa dell'ondata di calore con temperature bollenti ben al di sopra dei valori medi stagionali. Temperature più alte di 7-8 gradi con la colonnina del mercurio che potrà ancora raggiungere i 37-38 gradi e un tasso di umidità che soprattutto nelle ore serali e notturne potrà superare anche il 60-70% e in condizioni di scarsa ventilazione. Il meteorologo dell'osservatorio di Montevergine, il dottor Vincenzo Capozzi, ha assicurato che domani le temperature dovrebbero abbassarsi nuovamente, ma non per molto tempo. Nel corso della giornata di domani assisteremo ad una lieve attenuazione di questa ondata di calore così intensa a causa dell'arrivo di aria leggermente più fresca dai quadranti occidentali, per cui nelle prossime 48 ore farà un pochino meno caldo e il vento contribuirà anche ad alleviare questa sensazione di AFA che senz'altro ci offrime da qualche giorno. Queste prossime settimane saranno senz'altro caratterizzate da altri episodi di caldo intenso. Ad esempio, volendo spingerci nella evoluzione relativa alla prossima settimana, possiamo anticipare che faremo i conti con una nuova ondata di calore che probabilmente avrà una portata simile a quella che stiamo vivendo, che di per sé è già di livello praticamente quasi eccezionale. Inoltre, dall'inizio dell'ondata di calore il cielo ad Avellino e provincia, nonostante non siano previste piogge, ha assunto un colore più vicino al grigio che all'azzurro. È un fatto legato alla tipologia di massa d'aria che sta interessando il nostro territorio e che è la massa d'aria associata a questa ondata di caldo, un'aria che arriva dall'entroterra nordafricano, dunque è un'aria estremamente calda ma anche molto ricca di polveri di origine desertica. Queste polveri sono appunto in sospensione in atmosfera e conferiscono al colore una tonalità diciamo molto lattiginosa, offuscando anche diciamo l'orizzonte. Oggi per la verità questo effetto legato alle polveri desertiche si è unita anche una copertura nuvolosa costituita da nubi alte e sottili che rende appunto l'orizzonte ancora più offuscato. Quindi diciamo è un fatto legato proprio alla tipologia di massa d'aria e ai venti molto caldi da meridione che accompagnano questa ondata di calore. Grazie. Grazie.